Musica Ben ritrovati con il Tg Veneziano. Parliamo dei casinò di Venezia. Lo aveva annunciato il sindaco Luigi Brugnaro alla fine dell'anno scorso. Tra le prerogative dell'anno 2017 rientrava anche la ristrutturazione aziendale del casino. Così l'assessore al bilancio Michele Zuin, il sindaco Luigi Brugnaro con gli assessori Simone Venturini e Paolo Romor si sono presentati ai sindacati della Casa da Gioco per illustrare il piano straordinario. Un piano di ristrutturazione da discutere e da approvare entro il 30 giugno. In caso contrario il Comune potrebbe mettere la società in liquidazione. Se con le trattative dei sindacati si arrivasse a rivedere il contratto aziendale di lavoro ma non a raggiungere uno stabile equilibrio economico e finanziario, il Comune dovrà chiudere temporaneamente Cave in Dramin che verrebbe utilizzato come spazio polifunzionale per eventi di lusso, convegni e mostre d'arte. Sono due i milioni mancanti, questa la previsione di passivo con cui al momento si prevede di chiudere il bilancio del 2016 e Zuin sul punto ha detto che pur di non incorrere nella denuncia della Corte dei Conti, se si dovesse ricapitalizzare occorrerebbe farla a fronte appunto di un piano industriale. Noi, ribadisce, siamo pronti a coprire i due milioni mancanti e anche ad investire. Ma quello che il Comune chiede è un sacrificio da parte dei dipendenti. Più flessibilità, meritocrazia, abitudine all'apertura delle sale 24 ore su 24, l'eliminazione della giornata di indisponibilità. Oltre ad una revisione dei premi, considerato anche un accordo valido per solo 157 lavoratori, divenuto ormai anacronistico perché concluso nel 1999. Tra le proposte per il rilancio della casa da gioco, l'organizzazione di eventi particolari e l'assunzione di personale cinese che potrà così assistere la sempre più alta clientela proveniente dall'estremo oriente. Ristrutturazione di investimenti per Canoghera. Per Cavendramini invece il reparto giochi sarà unificato al terzo piano, lasciando il resto del palazzo all'organizzazione appunto di eventi e di ingresso libero per i cittadini. Per il consigliere del PD, Nicola Pellicani, questa è una razionalizzazione che rischia di affossare completamente la casa da gioco. Occorre pensare, dice, ad una nuova sede in terraferma con annesso anche un albergo. 1.300.000 euro al fine di restaurare, risanare e rendere abitabili 86 unità abitative di edilizia residenziale e 900.000 euro per la manutenzione delle scuole. Queste le cifre che la Giunta Comunale di Venezia ha stabilito. L'intervento è finanziato con fondi del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane Pommetro 2014-2020 dedicato allo sviluppo sostenibile che mira a sorvegliare la qualità dei servizi e a promuovere l'inclusione sociale. In particolare si sostengono interventi volti a ridurre il disagio abitativo attraverso il finanziamento per il ripristino degli alloggi pubblici non affittati. Per le scuole invece la Giunta ha approvato una delibera riguardante l'approvazione dei lavori di manutenzione programmata e straordinaria per le scuole della terraferma. Passiamo adesso invece alla cronaca. Sono arrivate le motivazioni della sentenza con la quale il Presidente della Corte d'Assise d'Appello spiega perché Monica Busetto si è stata condannata all'ergastolo per l'omicidio di Lida Taffi Pamio, l'anziana vicina di casa. Per la Corte la prova inconfutabile che incastra Monica Busetto è la presenza del DNA della vittima nella collanina detenuta proprio dalla Busetto in casa. Nella vicenda per sua stessa missione un ruolo importante ha avuto anche Susanna Lazzarini, detta Milli, in carcere per l'omicidio di un'altra anziana signora sempre di mestre. Le dichiarazioni di quest'ultima avevano fatto uscire dal carcere Monica Busetto, la donna infatti si era attribuita anche il compimento dell'omicidio della signora Pamio. Dichiarazioni che poi in parte ha ritrattato. Oggi l'avvocato Alessandro Dolioni, legale di Monica Busetto, lette le motivazioni e ha dichiarato di voler ricorrere in Cassazione. La presenza di DNA infatti secondo i legali è minima e non può essere la prova per un ergastolo. Oltre al fatto che, ha sempre detto l'avvocato Dolioni, ci troviamo nella situazione assurda in cui la Busetto è stata condannata all'ergastolo per l'omicidio compiuto da sola, mentre la Lazzarini sarà rinviata a giudizio per lo stesso omicidio in concorso con la Busetto. Il legale quindi pronto ad impugnare la sentenza in Cassazione ha intanto però fatto ricorso al Tribunale del Riesame perché vengano concessi alla sua cliente gli arresti domiciliari. La prossima udienza sarà il 3 marzo. Non è la prima volta che la chiesetta di Ottava Presa, una frazione di Caorle, viene presa di mira. L'ultimo episodio una settimana fa, quando una più persone ancora non si sa, sarebbero entrate nella piccola chiesa mentre era vuota, urinando nella statua della Madonna di Lurs. Le candele poi sono state trovate tutte accese, sparite anche le ostie, non ancora consacrate. Del gesto è stato informato subito il patriarca Moraglia e Don Giorgio Scatto ha presentato denunce ai carabinieri. Il fatto è un sacrilegio, si è pensato anche ad un rito satanico, ma è proprio lo stesso Don Giorgio Scatto ad escludere questa ipotesi. Più probabile, ha detto, che si tratti di un gesto sconsiderato. Adesso invece una bella notizia, una storia a lieto fine per un 46enne Mauro Pesce, residente a Rio San Martino di Scorzè, che domenica ha recattosi all'ospedale dell'Angelo, a Mestre, ha smarrito il portafoglio dopo aver parcheggiato l'auto nel parcheggio sotterraneo. Probabilmente nello scendere il portafoglio gli è caduto a terra, dopo aver sporto denunce ai carabinieri per smarrimento, inserato appunto il lieto fine. Alla sua porta si è presentato infatti un signore di mezza età, residente a Ponzano Veneto, in provincia di Treviso, che gli ha riportato il portafoglio con tutto all'interno, compresi anche i 250 euro. Quindi ricompensa per il gesto benefico, peraltro rifiutata. Ci spostiamo invece adesso a Jesolo, è stato pizzicato mentre spacciava droga in un vicolo dell'area pedonale di Jesolo. Si tratta di un uomo di 25 anni, originario del Bangladesh, risultato poi anche senza documenti e con 120 euro in tasca. Per lui denuncia per spaccio di stupefacenti. Una signora ieri pomeriggio intorno alle 18 è precipitata con la sua auto nel fossato di via Moranzania Malcontenta. Un metro di acqua è stata, la donna è stata aiutata dai passanti, per lei nessuna ferita grave, sul posto sono però intervenuti i vigili del fuoco per i rilievi e per il recupero dell'auto. Passiamo adesso invece alla pagina sportiva. Pallacanestro femminile, è stata presentata a Caffarsetti ieri la Final Four di Coppa Italia di Serie A1 e la Final Four si terrà al Palasport Tagliercio di Mestre il prossimo 25 e il prossimo 26 febbraio, il torneo di basket che vedrà impegnate anche le Oro Granata, che si contenderanno il trofeo con Gesam, Gas, Lucca, Famila, Schio e Passalacqua Ragusa. Rimaniamo sempre in tema sportivo, basket maschile, le prime dichiarazioni di Esteban Batista, il nuovo centro dell'Umana Reier che non vede l'ora di dare il suo contributo a questa grande squadra. L'ex centro di Milano ha un passato in NBA e quindi attese grandi aspettative. Ora invece vi lasciamo alle immagini del Carnevale di Venezia 2017, domenica il tradizionale spettacolare Volo dell'Angelo interpretato dalla Maria del Carnevale 2016, Claudia Marchiori. Grazie per essere stati con noi, vi do appuntamento giovedì prossimo.